e che è fuggita dall'abitazione e poi ha dato all'allarme ai carabinieri. E ha preso oggi il via l'attività della Commissione Speciale sui rifiuti nella nostra regione. Si cerca di capire meglio qual è il destino appunto del ciclo dei rifiuti e soprattutto individuare gli obiettivi più importanti nei prossimi mesi. Gli obiettivi di accendere i riflettori su un ciclo che mostra delle difficoltà. I rifiuti non diminuiscono, le discariche per legge stanno per chiudere, quindi non vorremmo vedere nelle strade delle nostre città quello che si vede in Campania. Quindi l'opposizione ha chiesto una commissione d'inchiesta che si è insediata proprio per analizzare quelli che sono i problemi e cercare di evitarli. C'è molto ritardo anche sull'unificazione degli ato e sui soggetti gestori che dovranno poi gestire gli impianti. E inoltre c'è molto ritardo anche sugli impianti di termovalorizzazione che sono previsti ma che non si riescano a fare. Quindi la commissione ha l'arduo compito in pochi mesi di cercare di agevolare e facilitare un compito che è complicato. Parliamo di calcio, euforia viola dopo la qualificazione.